Salve, sono Roberto Fabri e oggi vedremo il settimo studio tratto dal chitarrista classico autodidatta. Questo settimo studio si lega esattamente al precedente perché gli accordi utilizzati sono gli stessi, cambia solamente il modo di suonarli. Se nel numero 6 noi arpeggiavamo questi accordi, nel numero 7 invece li dobbiamo suonare simultaneamente con indice media anulare. Dobbiamo stare attenti chiaramente ad effettuare un blocco compatto delle dita in maniera che il suono sia tutt'uno. Grazie per avermi seguito fin qui. Abbiamo ascoltato lo studio numero 7 tratto dal chitarrista classico autodidatta. Nella prossima lezione vedremo lo studio numero 8. Grazie per avermi seguito fin qui. Se ancora non l'avete fatto vi ricordo di iscrivervi al mio canale per seguire tutte le lezioni. Grazie a tutti.